Cari amici di Artemide Arte, cari amanti della cultura, dell'arte, delle visite guidate, volevo solo ringraziarvi io, Simona e tutto il team di Artemide Arte per l'affetto dimostrato in questo periodo. Non siete soli, noi vi pensiamo e anche da casa stiamo lavorando per voi, con tanta energia creativa, con tante idee che realizzeremo insieme a voi appena sarà possibile. Siate fiduciosi!